Anticipazioni Endless Love. Vildan riceve una chiamata improvvisa, è la polizia, che le comunica una notizia sconcertante. Onder, suo marito, ha ricevuto un ordine restrittivo da parte di Leila. Vildan è furiosa e capisce che mentre lei parlava con gli agenti, Onder era con Leila. Esige spiegazioni e lui confessa subito. Voleva avvertire Leila del pericolo che Kemal rappresenta per entrambe, ma Vildan non riesce a trattenere la rabbia e le lacrime. Pensa che Onder stia ancora pensando a Leila e che abbia trovato una scusa per incontrarla di nuovo. Non può accettare che sua sorella stia ancora cercando di ottenere ciò che non le appartiene. Esce di casa decisa a riprendersi ciò che le spetta. Tariq torna in azienda da Emir per un taglio di capelli, ma Emir usa l'occasione per mettere Kemal contro suo fratello. Consegna a Tariq il cellulare di Zeynep, dicendo di averlo recuperato alla stazione di polizia, in presenza sia di Zeynep che di Kemal. Tariq rimane senza parole e si arrabbia per il fatto che Kemal non abbia detto nulla alla famiglia. Kemal arriva in azienda e si scaglia contro Nyan, furioso per il fatto che la sua famiglia si sia approfittata di sua sorella. La licenzia e, in un impeto di rabbia, prende della vernice rossa e la getta sulla parete verde dipinta da Nyan. Asu guarda la scena soddisfatta mentre Nyan se ne va. Asu coglie l'occasione per chiamare la madre di Kemal e informarla che Nyan non lavora più per loro. La madre è entusiasta, ma la telefonata viene interrotta da una donna che bussa alla porta di casa. Deve consegnare una busta a Zeynep. Feime afferra la busta e decide di aprirla. È stato Tufana a mandare quella donna a consegnarla a casa di Kemal, e l'espressione di Feime non lascia presagire nulla di positivo. Sconvolta, chiama subito suo marito e lo convoca a casa. Anche Tariq viene convocato. Hanno tutti qualcosa di cui discutere con Zeynep. Vildan è in ufficio dal suo avvocato. Le sue intenzioni sono chiare. Vuole riprendersi la casa che apparteneva ai suoi genitori, quella in cui vive Leila. Così decide di citare sua sorella in giudizio. Tornato a casa, Emir raggiunge Onder per spronarlo a continuare a frequentare Zeynep e a non arrendersi. Il ragazzo si lascia facilmente convincere e comincia a chiamare continuamente Zeynep. Mentre Zeynep sta tornando a casa, incontra Salih. Il ragazzo è preoccupato di non averla sentita e lei inventa di aver dimenticato il cellulare a casa di una sua amica. Lo liquida poi con la scusa dello studio, ma lui le promette che presto verrà a casa sua per farle una proposta, ovviamente dopo aver prima informato Kemal. Zeynep arriva a casa e trova i suoi genitori e Tariq pronti ad affrontarla. I suoi genitori sono furiosi e lei non sa davvero cosa aspettarsi. Emir entra nella camera e trova Nyan intenta a preparare la sua valigia. È chiaro che lei partirà per una settimana a Milano per una mostra. Durante questa conversazione, Emir scopre che Nyan ha lasciato il lavoro offertole da Kemal. Emir le chiede di non partire e si accorge che non indossa più l'anello di fidanzamento. Cerca di esprimere i suoi sentimenti sinceramente, dicendole che il suo amore per lei non finirà mai, ma di fronte alla sua resistenza, cambia tono e le ricorda il suo controllo su di lei. Dopo la discussione, Emir riceve una telefonata dal suo ricattatore, che gli ricorda di possedere i video dell'omicidio. Nel frattempo, Zeynep affronta le accuse dei suoi genitori riguardo al suo sogno di diventare attrice. La situazione si aggrava quando Kemal si unisce alla discussione, vietando a Zeynep di studiare o uscire finché non imparerà la lezione. Tariq approfitta della situazione per screditare suo fratello, accusandolo di essere a conoscenza dell'Agenzia di Talenti e implicando Zeynep in una questione riguardante Emir e il suo cellulare. Tariq fa una rivelazione sconcertante ai suoi genitori, Zeynep è stata portata in quest'ora insieme a Ozan, e Kemal era a conoscenza di tutto. Questa scoperta scuote profondamente Hussain, che chiede spiegazioni a Kemal. Quest'ultimo tenta goffamente di giustificarsi, accusando Emir di manovrare la situazione per dividere la famiglia, ma Hussain non è disposto ad ascoltare le sue scuse, sentendosi tradito. Tariq, comprendendo che da quando Kemal è tornato la serenità in famiglia è svanita, decide di andarsene, convinto che forse la sua famiglia sarebbe meglio senza di lui. Dopo una settimana, Kemal confida a Salì la sua amarezza, descrivendo la famiglia in modo lucido. Tariq desidera una vita diversa e soffre per il suo lavoro e per non essere apprezzato, mentre Zeynep, ingenua e impulsiva, è disposta a tutto per inseguire i suoi sogni senza valutare i rischi. Kemal spiega a Salì come Emir abbia manipolato i suoi fratelli per destabilizzare la famiglia. Salì scopre così i desideri di Zeynep di diventare attrice e la sua relazione con Hussain. Deciso a vendicarsi di Emir, Salì accetta di collaborare con Kemal nei suoi piani vendicativi. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti, e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!